minchia c'entro oggi gira mia togliere la ranella cazzo ci gira al pelo ma prende entro qua dentro sul bordo ma togliere la ranella va avanti più e più alto avanti di quanto toglierò la ranella guadagniamo tanto lì non scappa dito lo stesso e anche quello di lì non gira a meno che bisogna vedere il buco come dentro bisogna vedere i buchi però se i buchi sono dentro sui gatti che ti bagni più facilmente adesso bisogna buttare anche tutti e tre i buchi cazzo allora lui non era chi era bene lui non era chi guardi è dato lento questo è andato anche la sasca diretti racconta perché vedi che sono già corti però questo che si ferma lì perché se tiri uno dopo non va più con l'altro se no però questi qua sono corti secondo me allora è vero che dopo qua dentro volevo cimarle via un pezzo senti perché io dopo ti alzo un po' la scala che magari riesci a vitarla ma sta prendendo non prenderà neanche questo ma sta prendendo attivando vedi 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 che qua 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 ci sono allargati e per quello che ti dico e allora a questo punto quindi aspetta aspetta un momento no tiralo via dobbiamo fare un altro lavoro solo che non ho il dado se il buco è grande ho capito cosa vuoi fare no lo spingiamo più in fondo tira per forza poi c'è ragione oltre che però non ci scappa più mettiamo i due dati e li portiamo puttana vacca allora piede annegato no tira fuori la barra tira fuori la barra quella lì viene fuori ho capito queste qui possiamo portare i dati in seguito dai e però è corto ci vuole più lunga vabbè ma se siamo giusti come coso sono grandi non van bene questi qua non van bene ci vuole più grosso ancora